E' forte la richiesta da parte dell'Asla di Salerno e in particolare l'appello del direttore generale dell'Asla Mario Iervolino a vaccinarsi. L'immunità di Greggia si raggiungerà solo avendo il 75-80% della popolazione vaccinata. Servono altre 166.000 persone per arrivare al tetto indicato dal direttore Iervolino riguardo l'immunità. Solo così potremo avere una vera e propria barriera alla variante Delta. L'appello è a vaccinarsi tutti perché il nostro obiettivo è quello di mettere in sicurezza tutti i contenitori, a partire dai contenitori scolastici perché a settembre non possiamo non aprire le scuole e ripartire in DAD, sarebbe veramente una iattura, un'offesa al vivere civile. Quindi diciamo che noi facciamo un appello a tutti a vaccinarsi, abbiamo raggiunto i numeri notevoli, abbiamo superato il milione di dosi in provincia di Salerno, quindi tentiamo e vogliamo arrivare al 75-80% della popolazione perché alla fine vogliamo l'immunità di Greggia per mettere in sicurezza questa provincia. Ci servono altre 166.000 persone per raggiungere quel tetto ed è importante avvicinare queste persone, aiutarle a iscriversi, noi per semplificare il tutto prevederemo che si possono regare direttamente presso i centri vaccinali e iscriversi direttamente lì ed effettuare direttamente lì la vaccinazione. Questo mese sicuramente riusciremo a fare le doppie dosi a quelli già vaccinati e avremo in questo modo una bella barriera alla circolazione della variante Delta. Grazie. 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 Grazie.